Un saluto da Vitali Immobiliare. Oggi ci troviamo nel cuore del centro storico di Cesena, in contrada Chiaramonti, esattamente nel palazzo storico che fu di proprietà del conte Giulio Cesare di Massa di Montefeltro, già sede del circolo cittadino Cesenate. Voglio proporvi in vendita quella che per secoli fu un'importante residenza immobiliare, caratterizzata da ampi spazi, colonnate, grottesche, quadri museali e affreschi. Un luogo ideale per diventare una residenza di lusso o un ufficio di rappresentanza. Ma seguimi che te lo mostro. Grazie a tutti. Vitali Immobiliare. Tutta un'altra agenzia.